abbiamo iniziato per alessandra ciao elena buonvenuti ciao conto da 5 154 3 2 1 dimmi se la vedi si la vedo è lei è in una tipo in un bosco dove bosco tutto un po tetro dove sta piovendo c'è della pioggia e sta cercando di scappare da vedo 3 3 rettiliani sembrano sì cioè sono tipo delle tre grosse lucertole che stanno in piedi sì ma questo avviene adesso l'immagine così si diciamo che la aspetta perché allora viene come lei si sente in questo momento però è come se questa immagine l'avesse vista quindi può essere o in un sogno se vabbè un tramite 3 italiani mi va l'autorizzazione sì 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 ok siccome siamo già nelle entità vediamole tutte quindi ci sono questi tre rettiliani adesso era solo quel momento no no ci sono strade triliani poi c'è una mantide sia una via di mezzo tra una tigre felinoide mi ha rimasto tra una tigre tipo una tigre con la cresta no no così quindi sì in alto in alto allora ci sono due siriani e poi c'è odino ok e dl ci sono e dl ce ne sono cinque se tutti dentro a due dentro e tre fuori tre fuori che collaborano con due entità mentali vediamole una di livello 31 di livello 5 cosa fa la prima e cosa fa la seconda a quella di livello 3 quella che la fa sentire non adattano adeguate insicura sbaglia sempre pensa di non poter fare le cose l'imbarazzo quando la guardano in pubblico quella lì è più livello 5 che anche quella che le fa venire tutti i sintomi fisici soprattutto la tachicardia infatti quando lei esponeva suo punto ancora prima che lo dicesse io proprio visto che qua aveva aveva proprio la vedevo no proprio come se lì quando la quando le veniva l'ansia come se gli passava un'onda e vedevo che lì si muoveva tutto no quindi avrei detto torace in generale poi le ha detto che ti viene batte forte il cuore ma è l'entità di livello 5 che agisce sia sul fatto che la fa sentire sempre sotto la come si dice la lema ingrandimento la luna c'è la fa sentire sempre fermata come se tutti la stessero guardando dando e giu quando nella realtà nella realtà poi alla fine anche se la gente pettegola alla gente ne frega niente soprattutto quando a qualcuno se la prende come alessandra la gente si si concentra maggiormente quando la persona se ne frega al di là del fatto che fregando se ne non sa nemmeno che la gente la sta guardando ma quando la gente se ne frega chi quando alessandra per del gioco il gioco non è divertente lo stesso gli scherzi lo stesso per le battute tutti i giorni ma come ai capelli ma come ai capelli ma come ai capelli alla fine uno va nella paranoia non per come ai capelli perché li ha e di fatto se uno bene grazie la persona cerca un'altra vittima fare lo scherzo per dire che come ai capelli la morale canale 5 questa l'insegnamento barbara d'urso come vi si lavano le mani ha insegnato come si lavano le mani e all'inizio della pandemichia si è messa a ricordare me l'anno è fatto e ha fatto vedere come si lavano le mani è già una che ha 100 anni che dovrebbe stare a casa invece ancora l'intenzione con le luci sparate in faccia bene che bella l'italia ok due entità mentali un po di entità impianti allora prima già visto prima ne ha uno mentale che praticamente come se come faccio a dire è un piano orizzontale che come se fosse a metà del cervello ok e ricopre tutta la superficie del cervello di quel piano lì e corrisponde agli occhi e le orecchie infatti quando lei diceva parlava della cucine e dell'occhio che balla avevo già visto che era quello ho già visto che l'occhio era al sinistro l'orecchio se non sbaglio il destro ed è proprio questo impianto mentale così proprio un piano poi poi ci sono un impianto eterico qua sì poi ci sono impianti sul palmi delle mani se ne uno al centro della pancia più o meno sotto l'ombelico poi ce ne sono due sulle cosce però dentro allo spesso sono più verso davanti lei c'era come se l'avesse sui due femori tipo delle come se fossero delle placche così e poi due sui dorsi dei piedi mentali quello solo quello orizzontale all'interno del cervello se va bene incapacità di prendere decisioni sul suo presente e futuro l'identità di livello 3 odia la gente specialmente quando la osserva 5 se si si sente ignorante non all'altezza tra di livello 3 sì però per alcuni di questi aspetti allora l'entità di livello 3 e le manda il pensiero di confusione come spesso fanno per fare questa cosa quindi si fa così no si fa così è meglio così no meglio così ok poi c'è invece la la mantide che le dice se ignorante cosa parli a fare praticamente agisce a livello psicologico ma anche concreto perché poi magari si imbarazza quando la fa imbarazzare quando cerca di parlare le fa dire le parole in maniera non corretta si quindi queste due agiscono in contemporanea con una dl una dl uno dei due dl che c'è dentro collabora con la 3 e la mantide e un edl fuori diciamo che con le entità mentale collaborano direttamente gli edl spesso spessissimo la manti della mantide e maestra di esperimenti genetici sì vero ma è maestra di confusione ecco lei che confonde anche l'insetto ammalia che anche l'insetto ammalia la preda e poi se la mangia serata di modi ci sono dei video di natura sia su youtube che nei documentari dove la mantide mangia insetti vivi con un con una crudeltà salante non li uccide e si rimane mangia l'esoscheletro mentre l'insetto ancora vivono ok metà meno ragno per dire li avvelena li uccide poi li mangia mentre questa direttiva il ragno è proprio diretto no c'è lo sa è spaventoso e quindi c'è lei invece proprio c'è ammalia proprio fa in torta no arriva e ok nella l'avanti di amalia se che ammalia era la strega media che ammalia no la mantide amalia chiama la mantide mettiamole queste entità eteriche sotto il riflettore vediamola come se fosse ai raggi x ma allora ti dico cosa vedo tipo il contorno e dentro c'è tipo un se fosse un cilindro un cilindro di dati informazioni come se vedessi tanti caratteri no che formano questo cilindro e che a seconda di quello che lei deve fare cambiano come se fosse in eterico i messaggi che mandavano per per mandare i telegrammi o anche sei alfabeto morse no i miei quelli immagini lì che mandavano i messaggi lì ogni volta che le deve fare qualcosa arrivano dei caratteri dei dati diversi e continua a cambiare è proprio questo cilindro che continua a cambiare come se scorressero i caratteri cambiano a seconda di quello che la mantide deve fare il felinoide guardiamolo alla ai raggi x cioè trasparente dentro fuori dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto allora se c'è sempre il bordo che direi un ologramma con quello della mantide cambia proprio la tipologia c'è come come le creano come c'è a seconda del tipo di interferenza cambiano meccanismo metodo no cioè come se ognuno ogni tipologia di interferenza avesse la sua modalità quindi c'è tutto il bordo che sembra un ologramma e dentro a questi dati che lì erano in un cilindro che a vederlo da fuori è bianco lì è proprio come se ci fossero delle linee dove passano i dati e quindi vi discorrere questi caratteri in queste linee che ricoprono tutto all'interno dell'eurogramma i siriani i siriani sono più fisici nel senso c'è c'è anche un corpo e hanno utilizzano hanno tipo dei ma i siriani sono umanoidi e se infatti infatti per quello dicevano una percentuale di dna umano sì infatti c'è il fisico no e hanno usano la tecnologia hanno degli delle specie di chip delle schede da cui prendono i dati è come se durante il sonno vedo questa cosa qua durante il sonno aggiornano loro soft software che hanno in più come se fosse un accessorio no rispetto a cioè c'è la parte fisica la parte cerebrale in più hanno questa parte tecnologica inserita nel loro cervello e quando dormono si collegano a questo questo computer questa e aggiornano con le informazioni che è come se durante la giornata tra virgolette no come se fosse la nostra giornata prendono delle informazioni delle esperienze poi aggiornano software quindi dal giorno dopo ripartono da lì una roba così sono in grado di robotici e esattamente esatto sono in grado di leggere nel pensiero e facciano il teletrasporto come sono in grado di leggere nel pensiero attraverso capacità o attraverso la tecnologia attraverso la tecnologia infatti riescono più che altro tra di loro è una cosa che fanno più che altro tra di loro cioè noi non riescono a tranne in eterico che magari vedono i dati ma quello lo vediamo anche non c'è anche noi con loro quindi in eterico ok ma c'è se ci interferiscono non ci possono non ci leggono nel pensiero non riescono ok quindi quel con noi non riescono solo a chi ha una con la tecnologia chi ha quel software per leggere nel pensiero ok non riescono da soli hanno il teletrasporto che è sempre comunque continuato dalla parte tecnologica e ok e la facciamo un piccolo excursus rapido di razze umanoidi quindi tutti quelli che hanno un corpo e quindi tutti quelli che hanno una parte umana ma non completamente umana quante sono il numero che ti arriva 26 in totale in tutte le 26 se sono troppe per essere analizzate tutte la più strana è arrivato non so dopo andiamo a vedere dove però mi è arrivata l'immagine hanno questo anno come come se fosse il nostro corpo un po più tondeggiante e hanno tanti arti gli stati no no insetti detto si i dati con l'insettoide arti 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 che hanno tanti arti è però non siano più braccia si esatto arti nel senso come le nostre si che possono essere piedi o manina dire intorno alla ventina gambe si tutto intorno a 10 paia di braccia 10 paia di gambe no direi cinque paia di braccia e cinque paia di gambe ok che se ne fanno di tutte le mani e questi piedi e possono rotolare stando sempre in equilibrio come si chiama a questa razza tra tra stirani arrivano dal pianeta da questo pianeta trust scritto da quelli con la u si quasi andremo sul trust non la finiamo più i più i più lontani dall'essere umano quindi quelli con quella percentuale più più bassa sa anche esserlo questi assomigliano più a allora come forma direi allora sono molto retta insettoide a non dna molto alto a livello insettoide poco umano 15 per cento ma non resta insettoide e assomigliano tantissimo cioè quelli insetti che sembrano un rametto che quasi quindi sì una specie di se così quindi un corpo sottilissimo molto molto alti ok però hanno due gambe e due braccia molto fini e la faccia più o meno come quella degli umani però molto più stretta no però diciamo occhi bocca naso e un po e poi hanno queste due antenne i più vicini all'essere umano quelli con la percentuale maggiore i tuoi amici brigadiani si i più belli e ancora loro miei amici se è il più brutto i più brutti ci sono come se fossero dei nani tipo gli elfi sono come se fossero un umano normale ma schiacciato gioco quindi tutto deforme tutto schiacciato a non una bocca larga naso largo gli occhi così quasi più rizzo in quali che è rica sono una specie di sono molto robotici hanno tutta una corazza che però fa parte del corpo però poi come se avessero al posto della pelle una corazza di metallo come lese scheletro di metallo e sono più crudeli con tutti nel senso che pur di cercare di arrivare a noi contrastano anche tutte le altre razze ok sono 26 fermiamoci qua perché la razza umana è vitale è fondamentale nella creazione perché riesce a a vivere in autonomia cioè solo contando su se stessa mentre gli altri devono come se dovessero essere sempre in simbiosi con qualcos'altro all'esterno ma quindi parlato di ps gli altri hanno ps a 9 26 razze la ps non arriva dove c'è un ibrido no 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 infatti ci vuole assolutamente la ps c'è solo con questo tipo di dna quindi l'essere umano la contenitore si è contenitore della ps di fatto perché noi siamo abituati siamo esseri umani quindi siamo abituati a esserlo non sostanzialmente però certo chi ha detto che l'essere umano è la forma di vita ideale no il fatto stesso che l'essere umano è l'unico che può contenere quella cosa che ha creato tutto che è la parte subliminale bar esatto esatto ma chi l'ha creato l'essere umano allora io rivedo sempre a allora io ti direi playa diane e gli elohim e anche i siriani però se gli è dato la commessa era allora perché l'ha fatto allora devo capire bene il passaggio dopo però io vedo che lucas lucas creato questa forma per portare avanti questo questo progetto forma della matrix sì esatto la matrix e poi c'era questi e vedo quest'idea no di come se la dalla sorgente ci fosse la necessità di esportare una parte c'è esportare a ciclicamente ok la sorgente nella matrix per fare l'esperienza appunto della della dualità per capire cos'è l'uno la sorgente e quindi è come se si fosse accordata con lucas per creare la matrix e incapsulare questa parte di sorgente c'è la ps nella matrix nel corpo nei corpi umani sì c'è una specie di commessa data a delle entità che pensano di essere così importanti alla fine il capo e intorno al quale gira tutto siamo sempre soltanto in noi parti subisati se quindi il corpo gliel'abbiamo fatto creare in un certo modo purtroppo l'hanno molto depotenziato ma perché l'abbiamo voluto non certo perché la parte senza di essere così piano hanno fatti esattamente vedo proprio come una partenza ok quindi vedo lucas la matrix questo pensate il gioco il gioco è sensato poi ci sono le razze umanoidi che sono incazzate perché non hanno questa roba la vogliono l'eterna giovine ed eterna vita la vita eterna no mito della vita eterna vogliono vogliono a parte subliminale perché è la vita eterna e sono lì incazzate che cercano di in tutti i modi i modi hanno creato tante tante cose brutte per noi a livello del deep state qui sulla terra un uomo uno schifo che l'uomo fa schifo che l'uomo rovina tutto inquina il mondo che la natura è bella per così com'è che l'uomo caccia gli animali si tutte cose vere parzialmente vera perché comunque no ci starebbe anche il discorso della terra che gira intorno al sole no quindi la terra non vale nulla perché gira intorno al sole solo importante sistema egliocentrico ci sta postare assolutamente saper perdere la forma quello che perdere che prima il l'impianto fosse l'opposto perché perché la visione era cattolica adesso è così quale sia la verità e frega niente nessuno ha fatto no anche alla al netto di alcuni ragionamenti che effettivamente dal punto di vista scientifico non trovano una spiegazione come le trattere e c'era una serie di cose studiate vele le trattere poi venitemelo a spiegare perché io non l'ho ancora capito non vuol dire che io dica che la terra ha una certa forma io dico che queste cose non mi tornano che voglio mettere delle persone davanti a dei fatti semplicemente dei fatti sono degli interrogati facili domande vuol dire non essere schiavi di nessun pensiero comune quindi nessuna entità collettiva mentale collettiva a di essere puri nella domanda nella curiosità e nella ricerca della verità io voglio la verità frega niente che si pensa così che non stiamo andando a fare fatti nostri siamo sempre nella sessione di alessandra alessandra che si veste male quando va esce perché così la gente non la guarda e lei deve scomparire il punto non è che si veste male si veste bene certo vestirsi male comoda ma schiaccio non valorizzando la sua femminilità ha un solo effetto negativo su di lei che non si apprezzano e che quindi poi si rifletterà su tanti altri contesti il lavorativo relazionale quant'altro ma pensare determinare la propria vita e le proprie scelte sulla base sono gli altri avviso è quello su cui lei deve lavorare ora noi oggi togliamo le entità mentali vediamo adesso ci sono delle entità mentali collettive finita la sessione alessandra stop a tutte le vecchie abitudini mentali e cambia e attiva un cambiamento questa è una cosa che volevo dirti alla fine dei punti ma te la dico dentro la sessione che facciamo anche prima la sessione non è magia la sessione non è regione è un lavoro energetico vero ma le le cose che troviamo e togliamo che tu togli in eterico possono tornare dentro all'interno di una settimana se tu non agisci non capisci e nel concreto nella matrix non metti in pratica nel concreto esempio uscendo vestita da dio o comunque vestita come veramente vuoi con colori sgargianti coi tacchi anche se sei anche perché insomma ha un attività commerciale alessandra la bella presenza e tanto qualunque cosa si venda una bella presenza è molto importante di una bella signora piuttosto che una che appena finito di andare a prendere la legna la legna la legnaia insomma per dire è toccato insomma un invece del pile una bella camicetta è un taglierino anche se fa freddo poi insomma non fa mica freddo da te c'è solo un po di vento ok ti dico una parola elena e tu vai bugia mi sono arrivate 33 in generale sono andata bugia mi sono arrivate tre parole tre entità mentali collettive una è non ho il coraggio di dire la verità quindi racconto una cosa che penso che gli altri si aspettino l'altra è opportunistica nel senso potrei dire la verità ma adesso mi conviene dire una bugia e la terza che secondo me è quella più vincolante quando le persone sono collegate è quella vivo la mia vita ma voglio che gli altri pensano che io vivo un'altra vita quindi quando dicono quelli che raccontano proprio tutta un'altra storia della loro vita no in realtà poi ne vivono nel caso di alessandra alessandra ma la verità se nel caso di alessandra l'avevo già visto prima quando lo diceva è non mi vergogno come se le persone avessero paura di dire la verità ad alessandra perché è un loro problema nel senso è in quel momento loro si sentono a disagio con la verità e quindi raccontano una una mezza verità la distorcono un po' ecco la parte lì quindi non è voler dire la bugia ma cercare di mediare la situazione la circostanza ok andiamo nel suo emozionale allora sono arrivate tre emozioni potenti che a volte agiscono tutte e tre assieme quindi anche lì lei va in confusione oppure si attivano tutti e tre e quindi anche a livello fisico attiva di tutto e di più allora una grossa è appunto vedo l'ansia l'ansia proprio direi da prestazione nel senso verso l'esterno che quindi questa digitazione che le viene quando deve interagire con l'esterno e quando appunto poi ci sono tutte le entità sue che la la bombardano e quindi senso di niente e guatezza sentirsi osservata la confusione ok quindi parte quest'ansia molto forte ok poi c'è tanto questa rabbia per essersi fatta lei ma lei pensa che si è verso la mamma ma in realtà rabbia verso di sé per essersi fatta sempre controllare e manipolare direi dalla mamma ok e poi c'è questa paura questa paura del del giorno dopo del delle azioni per il futuro si figlio che è il futuro anche figlio oppure che diceva non mi sono mai ingrandita con i negozi per paura di fallire ecco tutte queste cose qua no non riuscire a pagare lo stipendio al dipendente è quella paura lì grossa a volte tutte e tre agiscono assieme quindi partono tachicardia l'occhio che trema la cuffia ne c'è tutto assieme dolori muscolare tutto tutto assieme fa fatica a gestirle fitte in testa è l'impianto mentale ho già visto prima con loro dice la cuffia nell'hai detto tromurio all'occhio l'hai detto però perché il sinistro e perché il sinistro è quello che praticamente non vede è quello più sensibile e quindi per quello che non sente di lì alizioni l'aliento e no di quell'impianto mentale è proprio su tutti i piani quindi occhi orecchie e proprio cervello quindi una lastra sì esatto diversa da sempre quella è la sua ps che tendenzialmente avrebbe reagito infatti arrivata qua se non avesse la sua ps che ogni tanto c'è ogni tanto regolarmente si fa sentire e quindi le fare fa nascere la domanda la fa reagire a volte anche i sintomi sono la ps no che spingono che spinge per farla attivare ok e quindi la sua diversità era quella si faceva sempre la domanda si si muoveva sempre rispetto agli altri cercava di muoversi poi dopo si lasciava bloccare da tutto l'esterno sua mamma gli altri cosa ne pensi e giudizio e gli altri tutte queste cose però tendenzialmente la ps spinge la sua ps spinge non ha fatto nulla di importante nella sua vita ma questo è il giudice giudica seste ha imparato a giudicarsi gli altri l'hanno sempre giudicata e le ha imparato a giudicarsi negativamente questo diciamo che l'entità di livello 3 quella di livello 5 hanno raggiunto il loro scopo con questa cosa capace di questo da quello che ci ha raccontato non è vero lei anche soltanto fatto di avere un negozio non significa autonomamente a stare a casa guardare una televisione la rilevato dalla madre che aveva venti e qualche anno insomma è iniziato a mandarlo avanti come una quarantenne cioè con bravura capacità sicurezza e oggi che non ha più vent'anni il negozio c'è in una condizione e in un contesto tra l'altro anche piuttosto complesso per direla in due parole molti avrebbero chiuso lei no quindi questo non è vero ma se lei si chiede questa cosa è possibile che lei voglia in effetti fare anche altro un corso di pittura un corso di sub secondo me secondo me a lei piace la tipologia di lavoro ma non quello che non quello che vende vorrebbe vorrebbe vendere tutt'altro e magari si anche creato da lei si ci può stare se non so perché ma io l'ho vista come se lei insegnasse yoga o pilates una cosa così cioè quando l'ho vista io l'ho vista insegnante di yoga o pica e pilates lei lei sorride noi non ne sappiamo niente infatti lei sorride magari il suo sogno io tra l'altro vedo un attrezzo in sottofondo qui sei in una specie di palestra tua no ok si capiva si intuiva già una specie di cyclette la in fondo vedo un manubrio che sembra di una cyclette un bici da spinning anche tu a questo posto è tuo si oppure a volte le persone che vivono in posti belli come alessandra non ci pensano però chi li impedi perché ne abbiamo parlato prima che vi impedisce di piazzarvi una muta e andare a rimensioni 12 mesi all'anno tra l'altro quella zona lì è piena di cose da andare a vedere non è uno spiagione è piena di grotte grottine grottelle e lo pensano più quelli che vengono da fuori perché voi non avete l'abitudine no chi ha detto che potrebbe anche essere solo questo non stravolgere la vita cambiare negozio diventare insegnante di che va bene che va bene si potrebbero essere la parte sua realizzazione mantenendo quella parte lì non c'è esatto quindi sempre in virtù del fatto che noi utilizziamo le interferenze anche quelle mentali dovremmo utilizzarle sempre in maniera costruttiva quindi è vero non ho fatto nulla di importante allora è falso però può essere che io non stia utilizzando la mia giornata la mia settimana il mio mese il mio anno al massimo si può essere vero senza senza darmi dei sensi di colpa quindi posso veramente riempire la mia giornata eliminando qualcosa che non va per esempio la televisione si spegne e già hai guadagnato tre ore della tua vita l'andare a messa si elimina e già hai guadagnato un sacco di tempo capito no per dire a fare dei esempi che cos'ho di bello intorno caspita o il mare che cosa di bello intorno o l'entroterra che cosa di bello intorno o il giardino che abbandonato o il campo che abbandonato spesso quello avete no evviva anche soltanto la magia di mettere un seme in terra a vedere nascere una pianta albero ortaggio solo quella cosa lì che ci insegnano da bambini e poi ci dimentichiamo ancora meno a me l'avevano insegnato al bambino e poi ma alcuni bambini oggi non lo insegnano nella tua invece vita elena si lo fatemi sa se lo sanno quella cosa di un bambino è un bambino e ad un adulto ha alla capacità di di mettere di dare la vita un vegetale no e a quel punto di quel vegetale si prende cura è il mio olivo il mio melo o è la mia pianta di pomodori e te ne prendi cura tanta corte tante cose tanto questo riempie non hai cambiato il mondo e cambiare il mondo e salvare il mondo un altro tema di alessandra mai la pianta di pomodori con dei pomodori da primato buoni belli grossi e rossi adesso si può fare una serra per esempio e soprattutto dove abiti tu alessandra vengono delle cose incredibili cioè non bisogna andare chissà dove per riempire la giornata dire ho fatto qualcosa di importante come faccio la serra io non la fa nessuno io sono quella nel paese che fa le serre che non fa nessuno poi dopo la sera prossimo anno c'è viaggio in giappone che ne so c'è l'apertura di due negozi l'attuale che un negozio di puntini puntini gioielli fatti da lei importati che nessuno mai visto nel posto in cui vive le cose particolari artigianato della sua regione è famosissimo e anche piuttosto sovente abbastanza sovvenzionato dallo stato italia posso dire la tua regione sardegna mi ci sardi la matta sardegna va bene chiamiamo il figlio nel cinema ed anche il compagno allora li vedo tutte e due in prima fila il compagno mette un braccio intorno al figlio e figlio molto entusiasta come vedo sempre di solito i figli sono molto curiosi aperti metterico e il compagno lì in prima fila a supportarla c'è si sente proprio desideroso si chiamiamo il fratello disincarnato mancato quando lei aveva 11 anni e lui 18 vedo una cosa strana che non ho mai visto nel senso adesso non so come è morto ma viene che è morto d'improvviso forse in un incidente non lo so è come se in quel momento fosse interferito quindi stavano facendo un abduction e come se la ps si fosse accorta e avesse deciso in quel momento di ricominciare da capo dirlo così non mi va rivolge a rinascere ok però è rimasto incastrato lo vedo fermo lì dove c'è stato vedo morto in un incidente che io lo vedo come se fosse in un incidente lo vedo fermo lì me lo sta scrivendo forse una malattia non è un incidente vabbè però è uguale come se sono esatto che un qualche cosa che arriva e porta via la vita un incidente una malattia anche di lungo corso la malattia non curata a non curata perché non lo sapevate non lo sapeva quindi abbastanza improvvisamente non vuoi saper lì avete io aspetta 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 hanno sbagliato i medici ha quindi anche fatto quindi c'è un incidente ok può essere quella cosa lì è legato alla terra e si è legato quel luogo lì come se quale io lo vedo fermo come vicino a una grotta vicino a un tunnel naturale tipo ok vuole dire qualcosa da alessandra dopo tanti anni sono rimasto confuso finora ti ringrazio per avermi chiamato perché adesso è tutto chiaro era come se girasse come se continuasse a girare in un turbine in un tipo in un cerchio che toccava la parete per cercare l'uscita e non c'era quindi adesso invece vede come funziona e la ringrazia per questo è un'altra cosa che vuole dirle è che si sente si è sentito molto molto affine a lei e quegli anni che hanno vissuto assieme lui l'ha sentita molto vicino ecco questa cosa qua un'altra cosa che mi arriva che mi ha fatto vedere adesso è che ogni tanto forse a lei dice forse a te sembrava che io fossi lì in realtà ogni tanto arrivavo e cercavo di accarezzarti perché c'evo proprio questa come se fossi attratto verso di te no a livello energetico che dovevo tornare da te in quel momento e cercavo di accarezzarti e poi andavo va bene apriamo un tale aureo se l'ha aperto lui bene perché l'ha aperto lui adesso e non l'ha aperto lui da solo perché non non gli era non non riusciva a trovare la sola via assolutamente era chiuso dentro questo cerchio un lup non c'era altra possibilità non la vedeva proprio ovviamente le interferenze di quel momento l'hanno tenuto lì di quando è morto dico sono riusciti a chiuderlo lì perché la sua ps voleva ricominciare tutto subito e invece se le interferenze sono riusciti a tenerlo lì fermo ok entrando nel portale aureo se vuole farlo già adesso lo può fare se vuole aggiungere qualcosa la può aggiungere aspetta un attimo perché forse alessandra ha una richiesta e ok va bene lo salutiamo se vogliono possono venire tutti i parenti di alessandra disincarnati di tutte le generazioni tantissime ma come si non sono avvenuti anche se è un po manti tutte le generazioni 57 sono sono più di questa generazione più vicini i più vicini esatto quelle le generazioni più vicine ok l'invito è esteso a tutti i disincarnati legati al paese in cui vive alessandra così alleggeriamo un po 825 vengono anche da più lontano qua in tutto il mondo tutti i morti da cini vac da ieri a oggi il 1340 ok sempre un bel regalino ogni giorno da fare a molok ringraziarlo di esistere grazie di esistere bene chiudiamo chiamiamo anche la madre nel cinema questo ultima domanda esiste una maledizione fattura sulla madre mi scrive alessandra circa la base alla quale la madre non poteva non doveva avere figli la madre si presenta se non proprio nelle prime file un po diciamo sui lati quarta fila ce ne sono però tipo dieci di fidele in quarta fila sulla rispetto allo schermo sulla sinistra ok beh allora abbiamo praticamente visto tutto tranne il fatto che lei non ha fiducia nelle persone né tanto meno nel compagno si è legato alla questione delle bugie no comunque tutto legato la stessa cosa nel senso lei si sente osservata giudicata e quindi il finirente incidente questa è la mantide è che distorce tutto come se l'interferenza della mantide la fa sentire sicura la farà la maglia la fa girare e quindi anche verso l'esterno la sua percezione quella che le persone la vogliono raggirare quindi le raccontano le cose ecco c'è questa diffidenza è una cosa sua però l'energia che lei manda fuori quindi di reazione alcune persone reagiscono così perché non hanno hanno le loro interferenze le loro insicurezze e quindi reagiscono alla sua energia ok le sarà capitato di trovare persone che invece si più centrate neutre che hanno non hanno risposto a questa cosa e probabilmente a lei ha risuonato un po la risposta in maniera diversa dal solito però questo vuole fare alessandra quando andrà il cluster andiamoci per ogni vita vedo come se ci fossero tanti tanti rialzi come quelli i rialzi delle torte di nozze no sono tanti come se fossero dei mini tavolini uno più ecco i piani e su ognuno di questi c'è un centrino che rappresenta ogni vita di di alessandra quindi è una torta gigantesca se è più di piani e più contratti ci sono e più quel piano di grande no ti vuole tenere no sta aprendo portare definitiva c'è nati da tutto dentro e ha chiuso portare ok non ti ho chiesto i vari valori all'inizio te li chiedo adesso sempre in base alla situazione iniziale non a questo fatto che abbiano già eliminato i contratti vibrazione miliardo e 3 consapevolezza 142 psp 41 e 59 i tuoi precedenti il minuto 115 e percentuale di cervello 8,8 ok abbiamo tolto i contratti giusto e ha tolto i contratti e se chiedi le dic di creare una d'eterno e di metterlo qua allora questo è particolare perché l'ha creato ha creato uno di quelli potenti pratino ed è rimasta stupita perché è stata in grado di creare quello più potente anche quindi proprio il contrasto di quello che lei ha pensato fino a pochi minuti prima di sé che ha visto che non riesco nero non va invece ha visto cioè in questo momento è diventata più che mai consapevole della sua enorme capacità lei è diventata il mago in eterico tra poco e la visita anche nel fisico quindi il mago è colui che crea tutto quello che gli pare ok ha messo il cluster andiamo all'avatar sì c'è l'avatar solito solito fantoccio che sembra un manichino di legno a una gamba al cavallata sull'altra fa finta di niente alessandra apre il portale definitivo e adesso ci sta lanciando dentro tutto ok ed una d'eterno un vento mhm ok c'è ancora qualcosa di quello che abbiamo visto ci sono le varie razze di umanoidi e non siriani felinoidi mantidi mantide e 5 dl lo godino no entità 35 mentali c'era una connessione a un'entità mentale collettiva o più no era collegata a quell'entità mentale collettiva della bugia per quella lì e delle bugie o però era la parte quella appunto che di non sentirsi all'altezza di dire le cose quindi distorcono un po la realtà e tu vedi nelle entità mentali collettivi e opportunity se si legge la nostra ma essi alessandra vuole connettersi a opportunity poi certo tanto è solo un magazzino di informazioni capirai te lo dico dopo alessandra questa parte qua non la capisci perfettamente ma dopo te lo dico che succede quando si connette cosa spiegami cosa vedi cosa fa allora allora mentre prende allora l'inizio appena si connette e penso che succeda con tutti così bom è arrivato così da poco da vedere appena si connette diventa dello stesso colore di opportunity ok quindi quel bianco perlato azzurrino e ha fatto proprio un gesto di stupore così o cioè come per dire guarda qua quante cose che non che non diceva vedere adesso vedo ok e poi come se si fosse più concentrata all'energia di opportunity e sta prendendo le informazioni si stacca dopo sì 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 ok perfetto con questa nuova condizione ci sono ancora impianti entità tutto quello che abbiamo visto prima c'è ancora qualcosa ma nuova vibrazione allora 87 miliardi percentuale di consapevolezza 183 vite 1516 psp e 57 e 43 quindi invertite e abbastanza in equilibrio e cervello 9,6 ok molto di più messaggio finale della ps della piedi alessandra ad alessandra su tutto e come sempre anche su come aumentare questa percentuale di cervello utilizzata che non è di per sé così importante ma lo è perché è legata allo sviluppo di capacità che si portano dietro tutto informazioni consapevolezza tutto allora dico un po quello che mi arriva il fatto che lei vada quella cosa che usava a fare che adesso diceva che non lo faceva più di andare a fare quel mini bagno anche d'inverno è una buona cosa da fare proprio andando correndo no come diceva vado a correre poi faccio bene poi torno quella cosa lì è molto buona per concentrarsi con con se stessa no per entrare in condizione proprio una parte meditativa al bagno e poi come se prendesse stabilizzasse le informazioni il collegamento e poi torna un'altra cosa che fa vedere se lei ha un giardino proprio crearsi il suo giardino ma proprio anche a livello estetico no come lei piace quindi mettere le piante cespugli e gli alberi che più le interessano ma lo vedo proprio come sai come fanno i giardini zen però non deve essere per forza zen però tutto no anche a livello armonica un senso è un senso magari un suo senso suo suo senso per lei assoluta scegliendo le piante gli alberi fiori quello che era e poi la vedo non so questa cosa dello yoga del pilates yoga ovviamente dinamico diciamo sempre perché l'altro un po troppo meditativo rischi di far entrare le interferenze se non sei centratissimo tipo vedo yoga dinamico pilates non so se può essere nelle sue corde comunque una cosa simile così e poi un'altra cosa vedo la creatività se non so però ti pone creare dolci le torte proprio a livello no decorativo decorazioni dei dolci mi è arrivata questa cosa no ma anche poi può essere quello può essere a quella cosa può essere anche solo come a livello meditativo no centratura che lo fa per piacere per gli altri per casa netto che deve essere forse un lavoro va bene cosa fa il figlio il compagno la madre nel cinema il figlio è tutto entusiasta che fa subito adesso metto in atto tutto dice anch'io adesso voglio fare questa cosa qua c'è questa cosa ne te ricordo ha preso tutte le informazioni in eterico dice anch'io adesso voglio vivere così con queste informazioni e le fa vedere al padre e padre diceva ok c'è vedendo l'entusiasmo del figlio lo segue la madre di alessandra ha osservato diceva bene ok ne prende atto si prende atto ecco il nostro percorso non è che sia una parte che debbano dal toni sono vivi quindi potrebbero farsi il loro percorso capire le loro cose spendere le loro ore davanti ai giusti video i giusti libri le giuste ricerche le giuste prove disincarnati li aiutiamo senza risparmiarci ma i viventi francamente è già tanto che ne mettiamo nel cinema che poi nessuno si aspetta niente nel piano reale poi alcuni casi ci sono dei cambiamenti alcuni casi no nessuno bene come la vede alessandra sempre alessandra i rettidiani adesso la vedo con una specie di gonna che però come se questa gonna si alzasse c'è come se diventasse cioè praticamente come se si alzasse con questa lei può volare ovunque fantastico belli meglio meglio di così mary poppins praticamente sì che arriva e vola vola per altri verso altri obiettivi e vedo poi tutto intorno diventa quando lei inizia a volare vien da tutto bianco va bene pronta a tornare che disconnetti allora da tutte e tutti e torniamo